La postura adottata alla scrivania spesso è scorretta e può provocare problemi alla salute. 23 lavoratori impegnati al videoterminale appartenenti a 9 aziende sono stati osservati per alcuni mesi nell'ambito del progetto Body Living e sulla base dei risultati sono stati apportati correttivi. Il progetto che ha coinvolto provincia, confapi, imprenditorialità donna, Ausl e Inail potrebbe essere esportato da Piacenza a livello nazionale. La schiena è piegata, le spalle sono rilassate, il fatto che non si mantenga un tono muscolare pronto, la testa alta, questo fa sì che se mantenuto per lungo tempo la muscolatura ne risente. Se poi aggiungiamo il fatto che ci sono delle tecniche di rilassamento che possono essere adottate e che la condizione di stress influisce negativamente sui disturbi muscoloscheletrici, chiaramente educare le persone a riconoscere questi momenti e ad adottare delle posture corrette ha senz'altro un effetto benefico nel lungo termine. Vogliamo prevenire non soltanto l'insorgere di malattie, in questo caso di malattia professionale, ma vogliamo proprio cercare di creare all'interno degli ambienti di lavoro un benessere di tipo organizzativo proprio per migliorare le condizioni generali di lavoro. Si dirà, in un momento in cui il lavoro è precario, non c'è eccetera, parlare di wellness aziendale sembra quasi, no, cioè voglio dire, uno schiaffo a chi il lavoro non ce l'ha o a chi ha problemi. Invece io sono sempre dell'idea che bisogna alzare proprio nei momenti di crisi e di difficoltà, bisogna alzare il tiro.